Upsa tutti, miei cari upsini e upsine, come state? Come state? Allora oggi sono qua solo per voi, per fare questo nuovo video ASMR, che però sarà in inaudible, quindi non capirete quello che sto dicendo. Ci tenevo però a fare questa introduzione in whispering. Innanzitutto perché voglio assicurarmi che voi stiate indossando cuffie o auricolari e che siate distesi sul vostro letto così da favorire l'attormentarsi e poi niente, questo qua. Oggi mi vedete un po' più barbuto perché anziché fare la barba venerdì, l'ho fatta mercoledì, quindi in, cioè di venerdì, in tre giorni e così. Vabbè. Ma adesso basta parlare e iniziamo. Prima di tutto, prima di non, prima di aver, impure tre appartствуasi la barba venerdì, con cui χ Salzgaðalra è difficile, evidentemente iniziamo. Qui, qui, qui … Quale? Chi. Pi. E' un po' più grande Grazie a tutti. 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 proprio rilassato. Non mi resta quindi che dire cocco, cocco. Ora tocca a te. Iscriviti al canale se sei nuovo per entrare a far parte della Ops community e diventare un Opsino se sei un maschietto, altrimenti un Opsino, se sei una femminuccia. Poi lascia un bel like, un bel commento se hai un attimo di tempo. E niente, il video di oggi finisce qua, ma se tu vuoi restare ancora insieme a me io ti lascio di qua il mio video precedente, di qua una mia playlist e qua sotto il tasto per andare sul mio canale e vedere tutto quello che vuoi sia video che shorts. Non mi resta quindi che darti un grande bacio e dirti buonanotte, 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 buonanotte. Buonanotte, buonanotte.